ciao dopo l'incredibile successo di pilates in tasca e it pilates in tasca non potevamo farci mancare summer pilates in tasca ma questa volta invece di ricevere il messaggio sul cellulare avrai a disposizione i 12 video del percorso sempre a portata di mano perché ikado diventa in questo modo avrai 12 video tutti da 10 minuti tutti con programmi e tematiche differenti da usare come e quando vuoi in più rispetto al solito useremo dei piccoli attrezzi per esempio l'elastico che si può piegare comodamente mettere in valigia e la palla che si sgonfia e potete anche questa metterla in valigia e poi rigonfiarla a vostro piacimento in più ci saranno alcune lezioni queste un pochino più lunghe per andare a camminare con spiaggia e montagna dipende da dove andrete in vacanza con delle visualizzazioni guidate e delle meditazioni da fare mentre camminate all'aria aperta non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura questo nuovo percorso con te ti aspetto